Buonasera a tutti amici di Rompipallone a meno uno dall'Europeo 2020, meno uno da Italia-Turchia, è il grande giorno per cominciare questi europei di calcio che sono stati rimandati da un anno, noi oggi parleremo ovviamente di Italia-Turchia con i nostri Lario Covino, Anna Maria Baccaro, il nostro esperto di calcio turco Doruk Lugano. Buonasera a tutti. Ciao a tutti ragazzi, ho lasciato la parola ad Anna Maria e poi devo lasciare prima ad Anna Maria, prima le signore sempre e comunque, e poi a Doruk, il nostro ospite d'eccezione, direttamente dalla Turchia. Adesso andremo ad introdurre quali saranno i temi di questa diretta, ma lo facciamo dopo la sigla. Italia-Turchia domani, si comincia l'Olimpico di Roma, siamo tutti un po' in mood, no? Perché è da cinque anni ormai che l'Italia non partecipa a una competizione. Mancano questi appuntamenti, no? Eh sì, eh sì. L'Italia ricordiamolo. No, no, non serve ricordarlo, lo sanno tutti. No, dai, non lo ricordiamo. Io lo ricorderò invece perché l'eliminazione dell'Italia è avvenuta il 13 novembre, giorno del mio compleanno. Ovviamente io non sono più importante dell'evento, ma è molto brutto quando capita il giorno del tuo compleanno. Ha fatto male, ha fatto male, non è stato un bel regalo. Un po' come al mio è morto Maradona, potrebbe essere abbastanza, vuoi dire... Non me ne vogliono, ancora più brutta. Eh sì, è stato veramente brutto, però. Eh sì, però adesso... È George Best, c'è una data proprio da rimuovere. No, se non fosse per il tuo compleanno la cancellerei dal calendario, onestamente. Sì. E quindi, insomma, c'è tantissima voglia, c'è tantissima voglia, intanto cominciano i primi saluti anche da Twitch, c'è tantissima voglia di tornare a giocare questo europeo. Eh... Ci eravamo lasciati con Antonio Conte, con l'eliminazione eh agli europei duemila e sedici. Sono passati ben cinque anni, adesso però c'è tanta voglia, c'è l'Italia di Roberto Mancini che sta incantando, sta facendo vedere bellissime cose e sta facendo un po' tornare questo sentimento, questa voglia di nazionale a tutti gli italiani. Come la state vivendo voi questa attesa? Ma cosa pensate che possa fare quest'Italia? Ma alla fine è un'attesa importante, oltre per l'impegno e la competizione per il palcoscenico, dove finalmente la nostra Italia tornerà a gareggiare. Ma il bello di domani sarà anche il fatto che in piccola parte ci sarà il ritorno anche del pubblico allo stadio, quindi un piccolo, piccolo spiraglio di normalità che secondo me va sottolineato perché è un'altra nota positiva della partita di domani all'Olimpico. Ovviamente c'è attesa, c'è emozione perché anche chi non è tifoso di calcio come noi, quando arriva nazionale magari si ha passione, quindi è comunque un qualcosa che unisce, che è un qualcosa di bello. Secondo me quest'Italia può sorprendere, anche perché voglio dire, anche già in altre occasioni, quando non era magari la super favorita come può esserlo adesso una Francia, ha fatto quel che ha fatto. Quindi vediamo, io non escluderei alcun traguardo. Ilario. Ragazzi, l'attesa è tanta, un po' perché, come abbiamo detto all'inizio, l'Italia viene da una delusione troppo, troppo grande per quella che è la storia dell'Italia. Un po' per il Covid, l'anno in più di attesa per Euro 2020, 21, si chiamerà sempre Euro 2020 ma siamo ormai nel 21. C'è tanta attesa, tanta voglia di ritornare alla normalità, alla normalità calcistica per l'Italia, perché la normalità calcistica per l'Italia è quella di competere per vincere e per fare bene in determinate competizioni e l'ultima volta non è stato fatto. Per la vita normale che è stata tolta a tutti noi dal Covid, quindi anche rivedere, in minima parte, la gente sugli spalti, saranno 16.000 all'Olimpico, rispetto alla capienza standard dello stadio sono pochi. Però rispetto allo zero assoluto che abbiamo visto, cioè chi è andato in tribuna stampa sa bene il silenzio assordante che si percepiva negli stati in questa stagione. Quindi c'è tanta voglia di ricominciare, di ricominciare con l'Azzurro e lo faremo con la Turchia di Doruk. Esatto, perché se da una parte c'è un'Italia che vuole giocare contro la Turchia, la Turchia sa di essere forse una delle nazioni più passionali, una delle nazioni più attaccate a questo sport. Doruk, tu che sei un esperto in calcio turco, lo ricordo per il pubblico che ci segue, lui è il figlio forse del più grande giornalista sportivo turco, la voce della Champions League Sabri Hogan. Come stanno vivendo i turchi questo europeo? Allora, anche noi eravamo nella stessa situazione come voi, perché non partecipiamo ad un'organizzazione così grande da un bel po'. Da 2016 e 2016 per noi è andata con delusione. E poi la nostra squadra è per la prima volta così forte, perché come conoscete anche voi, c'è Demiral, c'è Cialhanodu, pronuncio come voi. E quindi siamo forti. Perché? Perché come si pronuncia? Come si pronuncia se no? Sì, a questo punto. Allora, Mirich Demiral, Hakan Cialhanodu. Eh no, non ci provo, io non ci provo. E poi è ignorantissima, mi sento ignorantissima. Sì, ma pronuncio comunque come Cialhanodu, quindi non vi preoccupare. Io non ci provo. Alla fine, come vi ho detto, siamo giovani. Una squadra che ha l'età media 25 anni, quindi questo vuol dire che per dieci anni giocheranno con le stesse formazioni e con gli stessi giocatori. E questo è un gran vantaggio per i turchi. Quindi posso anche aggiungere che i turchi, i cittadini turchi, diciamo, non erano soddisfatti per la squadra fino all'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo trovato una grande generazione con Soyuncu, con Demiral, con Cialhanodu e poi con tre giocatori che giocano per Lille, quelli Yulmaz, Celik e Yazidji. Quindi sì, siamo forti. Sì, è vero. Scusami, vai, vai, vai. No, no, vai, vai. No, storicamente è una delle squadre più forti della Turchia. Diciamo, l'impatto, l'unico rischio è che gli azzurri, tra virgolette, possano sottovalutare la Turchia, anche se penso che Mancini le abbia messi bene sul pezzo, le abbia assurdo bene la squadra. e mi viene da chiedere a Doruk, in Turchia, chi è il giocatore che fa più paura ai turchi? Allora, i vostri attaccanti ci fanno paura, sinceramente. E poi ci fa paura, sinceramente, la nostra parte è sinistra, perché gioca un Mutmarash che rispetto agli altri giocatori ha poca esperienza e diciamo ha lo stesso livello rispetto agli altri giocatori nostri, appunto. Per questo motivo, se c'è la Chiesa, ad esempio, faccio un esempio, quindi questo potrebbe essere un problema per la parte sinistra, perché poi avanti a lui giocherà Cialhanolu, secondo me, cambiando con Yasuji, quindi non difende bene, secondo me Cialhanolu, tanto lo conoscete, quindi, secondo me, la parte sinistra da noi sarebbe un problema. Ok. E poi, assolutamente, poi Mancini ha fatto la carica a Galatasaray, per Galatasaray per due anni, quindi conosce il calcio nostro turco, è pronto. Un ambiente, un pizzico caldino, quello là turco. Istanbul è una città che vive poco, poco, poco di calcio. C'è giusto un po' d'affezione. Sì, questo va ricordato, va ricordato, se da una parte l'Italia pensa di poter spaventare la Turchia, ricordiamoci anche che Mancini, forse ce l'avremmo un po' scordato che ha allenato il Galatasaray per due anni. Vero, vero, vero. Perché era un po' uscito dai nostri radar, e quindi questa potrebbe essere un'arma in più, forse per l'Italia. Intanto vado a leggere qualche domanda che ci stanno facendo sui social. La prima domanda è per Anna Maria. Notizia di giornata, quella dell'infortunio di Lorenzo Pellegrini, che non sarà convocato al suo posto Gaetano Castrovilli. Lo farà rimpiangere? Sarà un bel problema la sua assenza per l'Italia, secondo te? Ma diciamo che nel calcio, soprattutto, eventi proprio del genere possono far venire fuori ancora di più, anche se già con la maglia della nazionale, secondo me il sentimento del gruppo è acceguato. Però proprio in situazioni del genere si vede la forza di una squadra. Anche perché è chiaro che era un titolare, e la perdita di un titolare prima della partita di inaugurazione è sicuramente una perdita che non ci voleva. È una tegola, però non credo che questo possa condizionare un intero europeo. Onestamente non credo, sarò troppo ottimista ma non penso. Comunque Castrovilli è un giocatore che a me non mi scace, che comunque riesce a fare la differenza quando vuole. In alcune partite l'ha dimostrato in campionato. Quindi secondo me magari potrebbe essere anche, sai, nella sfortuna fortunato, l'occasione per poter iniziare una carriera ancora più importante. Chissà, non bisogna sempre vedere questi episodi come un qualcosa di negativo, ma essere anche un po' fatalisti. Nonostante questo, ovviamente, un grande in bocca al luo a Pellegrini perché non ci voleva. Certo. Assolutamente. Anche perché Pellegrini in tutta la stagione non è il primo infortunio di stagione per Pellegrini, ma anche della sua carriera in generale. Io però un consiglio a Mancini, un po' di sale, nelle scarpe dei centrocampisti azzurri perché c'è oppure qualche corno acqua santiera magari all'inizio vicino alla panchina, un po' alla trap, no? Che aveva il buon trapattoni con l'acqua santiera della sorella Suora perché soprattutto a centrocampo che per fortuna è uno dei reparti, forse il reparto dove l'Italia ha più quantità, no? Abbiamo visto già. Sensi out. Prima dell'inizio Pessina. Pellegrini out. Prima dell'inizio Castrovilli. Verratti con problemi fisici. Verratti con problemi seri, diciamo al 50%. Ok? Quindi due sono le cose. Oggi sono macumbe per i centrocampisti. No, stiamo scherzando, naturalmente. Però un pizzico di sfortuna in questo momento prima di iniziare Euro 2020 almeno a centrocampo c'è, per l'Italia. Sì, sì, sì. Questo senza dubbio. Esatto. Abbiamo parlato di centrocampisti che a livello di nomi forse sono la grande forza di questa squadra. Vorrei fare una domanda a Doruk. Intanto stiamo perdendo Anna Maria ma l'abbiamo ritrovata subito. Ah, ok. L'Italia trova la sua forza nel centrocampo. Qual è il reparto attacco, centrocampo, difesa più di qualità della Turchia? Eh, allora, come conoscete c'è Demiral nei difensori e c'è Soyuncu che gioca per l'Easter City in Inghilterra quindi ha l'esperienza di Premier League. Quindi secondo me la nostra parte più forte sono i difensori i difensori centrali perché nella banchina poi c'è Kabak che gioca per Liverpool. Quindi io penso che sarebbe una partita molto particolare e speciale perché i vostri centrocampisti anche sono forti magari non sono famosi magari non ce l'avete Baggio magari non ce l'avete Totti però comunque ce l'avete una formazione forte quindi non lo so non posso vedere prima della partita però sarebbe un problema se troverete il controllo prendete il controllo del centrocampista diciamo perché i nostri sono più attaccanti capisci? c'è Jokushlu al più prima che fa ponte tra centrocampisti e centrali difensori però non so se riesce a controllare tutto sì è un problema anche forse di fisicità esatto mentre in realtà un dubbio che non è più un dubbio perché nella Turchia sta diventando una grandissima certezza dopo l'anno che ha giocato in Francia con il Lille campione di Francia Burak Ilmaz insieme a Yasici anche loro sono due giocatori che sanno fare gol e possono mettere in difficoltà l'Italia esatto io dall'esterno quello che temo è essere sincero il Mazz dall'esterno forse anche perché il Mazz quello che forse anche ha più storia a me fa paura onestamente per quanto la difesa dell'Italia sia un'ottima un'ottima difesa però ha tante esperienze è uno di quelli che ha più storia nella squadra ha 36 anni appunto poi Lille secondo me è stato campionato grazie a questi tre giocatori turchi soprattutto Burak Ilmaz che segnava troppo gol quindi magari sì potrebbe creare alcuni problemi per voi perché poi c'è Yasici c'è 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 l'altra parte tutti sono forti tutti sono in forma e poi voi avete i difensori sì hanno tanto tempo hanno troppa esperienza però anche sono vecchi c'è 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 l'anoglu lo conosce bene Donnarumma potrebbe essere un'arma importante vero verità 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 avrà sicuramente detto qualcosa però diciamo che c'è l'anoglu lo conoscono bene tutti eh perché comunque giocando giocando in Italia eh Bonucci e Chiellini qualche calcio a c'è l'anoglu in campionato l'ha notato quindi voglio dire non avranno paura a darglielo anche in nazionale non di questo siamo sicuri poi entra in gioco il patriottismo quindi giustificato dai a proposito di patriottismo bella domanda che ci pone Emon ci chiede ma secondo voi gli azzurri metteranno in campo il massimo impegno per la maglia della nazionale o si risparmieranno per i propri club no ragazzi io credo che danno il massimo anche perché poi sono ragazzi dopo appunto i trascorsi che ci sono stati dei quali abbiamo già parlato del compleanno ne abbiamo parlato di tutte le varie sventure eh scusate il gioco di parola degli ultimi anni della nazionale è chiaro che comunque c'è la voglia di scrivere un capitolo importante no? perché è chiaro che vincere con la nazionale credo che sia il sogno massimo di ogni giocatore oltre la Champions League cioè comunque vincere determinati traguardi con l'azzurro credo non abbia prezzo non c'è non c'è niente non c'è niente di superiore nel mondo nel mondo del calcio ma io credo che neanche nelle amichevoli i giocatori possano permettersi di risparmiare le energie anche perché immaginiamo di essere i commissari tecnici dell'Italia per fortuna nessuno di noi è il CT dell'Italia però io vedo un giocatore che si risparmia che non dà tutto per la nazionale ma con quale coraggio posso no ma posso convocarlo ma non è sarebbe assurdo anche perché poi la forza di questa nazionale è il gruppo è stata il gruppo Mancini ha fatto anche scelte impopolari in nome del gruppo anche se pensiamo a Politano e tutte le varie questioni la scelta la scelta di Bernardeschi per Politano vedendo le stagioni dei due giocatori si giustifica solo così perché che Bernardeschi ha fatto parte del gruppo per due anni Politano ha fatto una grandissima stagione a Napoli però a volte oltre le figurine oltre i nomi c'è anche quello c'è anche il gruppo lo stare insieme sono fattori esterni che a volte non incidono direttamente sul campo sul campo quindi per rispondere al nostro amico Emon con una sfilza di 5-1-0 no è impossibile sì anche io sono abbastanza d'accordo su questa cosa parlavamo di scelte impopolari Politano lasciato fuori per Bernardeschi Soriano lasciato fuori per Castrovilli qualche scelta che ha fatto discutere chiedo a Doruk ci sono state delle convocazioni dal parte dell'allenatore della Turchia che in Turchia hanno fatto un po' discutere qualche giocatore lasciato fuori sì 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 alla fine ha lasciato fuori i giocatori che hanno esperienza come Arkin come Turan Ardo Turan però secondo me erano le scelte giuste perché ormai siamo una squadra forte e giovane e continueranno a giocare insieme per dieci anni quindi non c'era senso di mescolare con i giocatori vecchi quindi io non critico poi l'allenatore che si chiama Shenol Gunes il nostro allenatore era allenatore anche negli anni 2000 che Turchia aveva fatto il terzo posto nel 2002 al Coppa Mondiale quindi ha le esperienze e sa come si gestisce quindi io non ho alcune critiche ha fatto giusto ragazzi ma non si possono accontentare tutti questo io credo che in ogni nazione ci sia la controversia la polemica su doveva portare quello fa parte del calcio poi noi penso che anche in Turchia sia così è un paese di 60 milioni di tecnici a volte è meglio affidarsi a chi il calcio lo fa da tanti anni affidiamoci a Mancini che ha risollevato la nazionale dal periodo veramente più buio della sua storia ora è chiamata alle prime vere sfide attenzione quindi è tutto da vedere però il lavoro fatto dal Mancio già è tanto quindi affidiamoci a lui sicuramente è stato in grado di risanare quelle che erano state le ferite degli italiani è riuscito a riportare il calcio ed è chiaro che non era affatto semplice quindi già questo già di questo deve ritenersi soddisfatto secondo me assolutamente assolutamente sì si è una nazionale queste cose anche in Turchia perché si sa sì si sa che Mancini fa una rinnovazione della squadra Italia secondo me ha i progetti ben ben decisi Luca posso una domanda per il nostro ospite certo per il nostro il nostro ospite che Druk io eh sì ho usato il maschile Druk che ricordo ha lasciato Mancini in Turchia abbiamo detto che è stato l'allenatore del Galatasaray no? che che ricordo ha lasciato cioè come era visto all'epoca Mancini in Turchia? guarda se non mi sbaglio mi ricordo mi ricordo quella partita di Juventus contro Juventus giocava Sneijder giocava Drogba per Galatasaray e Galatasaray aveva vinto quindi diciamo sì lui era bravo a Galatasaray però lavorare in Turchia molto difficile perché ci sono tanti giornalisti ci sono tante repressioni sulle squadre sui diciamo sulla società quindi per lui era difficile lavorare in una situazione così e poi Galatasaray ce li ha un legend che si chiama Fatih Terim anche era allenatore per Milan per Fiorentina in calcio italiano quindi quando le cose non vanno bene i tifosi dicono Fatih Terim vogliamo Fatih Terim quindi gli allenatori oltre a Fatih Terim hanno i lavori sempre difficili perché devono far dimenticare Fatih Terim la leggenda una leggenda per il calcio turco e per il Galatasaray nello specifico mamma mia sì 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 intanto continuo a leggere continuo a leggere le preoccupazioni ci sono ok di giocatori della Turchia dici chi ci preoccupa di più sì 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 io ho già detto per me a me quello che fa paura è il Mazz onestamente anche visto l'esperienza come avevo detto ho 36 anni quindi abituato a determinate partite quest'anno ha fatto una stagione magica quindi poi quando sei in scia credo anche io in queste cose non nei momenti dei giocatori e lui è in un momento favoloso quindi lui è il giocatore che onestamente temo temo di più forse non è il più talentuoso della Turchia però è quello che mi fa più paura personalmente invece ti dico che Chaglar Soyuncu e Yazici probabilmente sono quelli che mi fanno più paura perché in Italia soprattutto Yazici ce lo ricordiamo per la partita straordinaria contro il Milan in Europa League sì e questo mi ricordo un precedente molto importante che ha spaventato tanti tifosi del Milan ma Chaglar Soyuncu ha fatto una stagione con il Leicester incredibile ha vinto la FA Cup da protagonista si è dimostrato ancora una volta un difensore dalle qualità fisiche atletiche e soprattutto di concentrazione da primo livello da primo livello e se il Leicester dopo il miracolo di Ranieri è ancora una squadra di prima fascia secondo me Chaglar Soyuncu ci ha messo del suo e ha tanti meriti in questo penso che Immobile che fa fatica tanta fatica spesso a segnare il nazionale marcato da un difensore così faccia fatica a toccare il pallone poi lo vedremo vediamo speriamo speriamo di speriamo di no sì vediamo chissà che non possa essere il riscatto di Immobile nazionale questo europeo magari dopo un'annala certamente non come quella precedente in campionato dove ha vinto la scappata però magari questa potrebbe essere una rivincita in nazionale speriamo perché sicuramente se lo meriterebbe poi è vero il fatto che si sia ritrovato il trio in signe Immobile Verratti del Pescara di Zeman che ha fatto una grande impresa all'epoca quindi magari vedremo speriamo 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 certo il dubbio sulla prima punta in generale dell'Italia io un po' ce l'ho Cilio Immobile è un giocatore indiscutibile attenzione però quando è andato all'estero forse era troppo giovane non era pronto al Borussia non ha fatto bene al Siviglia non ha fatto bene nella Lazio ha trovato la sua dimensione perfetta è rinato diciamo già quando tornò al Torino fece bene dopo nella sua seconda esperienza quindi però ha poche partite di questo livello sulle spalle e questo vale un po' per tutto l'attacco forse un po' in signe è quello che ha giocato un po' più di Champions League ha fatto la serie che comunque è riduce da una buona stagione comunque che è riduce da una grande da una grande grande stagione però poi Immobile Belotti Belotti pochissima quasi nulla Raspadori è un è un esordiente praticamente nove mesi fa non lo conosceva quasi quasi nessuno se non gli ha addetti ai lavori ora è convocato nella nazionale Berardi poca esperienza internazionale anche Chiesa ha poca esperienza a questi livelli per quanto quest'anno in Champions ci abbia fatto vedere l'unico forse salvabile no? della Juve nell'esperienza Champions però la poca esperienza in queste partite la poca malizia forse a volte può venire fuori a me questa è la cosa che fa per esempio paura dell'Italia domanda domanda Toloi potrebbe essere che costoletta mamma ma che fame tra le altre cose sono le sette e mezzo ci chiedo Toloi potrebbe essere più di una riserva Raffaele Toloi convocato da Mancini naturalizzato italiano centrale di una difesa a tre con l'Atalanta bravissimo nella marcatura uomo e anche spesso a risalire il campo fino a trovarsi in area di rigore ha giocato anche esterno in caso di estrema necessità nell'Italia di Mancini ha fatto il terzino destro secondo voi Raffaele Toloi può essere uno dei giocatori che rientra nelle rotazioni di Mancini spero di no perché vorrebbe dire che l'Italia avrebbe tanti tanti infortunati devo essere sincero questa Italia è costruita sul 4-3-3 Mancini ha puntato su questo modulo su un modo diverso di giocare che non è nel DNA di questa della nazionale italiana è nel DNA però di questi giocatori questa squadra i giocatori che ha convocato Mancini nascono per il 4-3 quindi io credo che sia difficile che possa magari potrà entrare a partita in corso se ci sarà bisogno di soffrire ci auguriamo dopo i gironi magari dopo gli scontri contro una grande allora se ci sarà bisogno di soffrire in un secondo tempo l'Italia può pensare anche a Toloi però sulla destra se lo vogliamo adattare come terzino l'Italia è coperta perché comunque ha Di Lorenzo e Florenzi nei centrali Bonucci e Chiellini se stanno al cento se sono al cento per cento non li muove nessuno dal posto da titolari subito dopo c'è Acerbi e poi se la giocano lui e Bastoni però entrambi vengono dalla difesa tre con due allenatori che ti martellano che ti guidano che ti che ti dicono anche quando se devi muovere prima il piede destro e poi il sinistro per camminare Gasperini e Conte certo un'altra domanda che voglio porvi questo girone con Turchia Italia ma anche Svizzera e Galles secondo voi l'Italia ha due sfide alla portata sono due squadre che possono far paura anche alla Turchia lo chiedo ovviamente anche a Doruk o l'Italia deve dimostrare di essere nettamente superiore per organico per storia per rosa di due nazionali che comunque possono contare campioni come Shaqiri e Bale io vorrei un piccolo salto balzo temporale pensiamo un po' alla Champions dove alcune big del campionato italiano sembravano avessero appunto un girone alla portata semplicissimo e poi alla fine abbiamo visto quel che è successo quindi l'Italia non deve cadere in questo errore perché chiaramente ogni partita è importante perché in Palio c'è una posta importante e quindi è chiaro sulla carta l'Italia probabilmente sarebbe anche tra le favorite di questo girone però non bisogna sottovalutare nessuna proprio per non commettere l'errore che è stato fatto probabilmente in Champions secondo me Ilario? Allora Turchia Galles e Svizzera sono squadre molto diverse tra loro secondo me la Turchia è quella che qualitativamente ha qualcosa in più rispetto a Svizzera e Galles uno può dire il Galles a Gareth Bale vediamo quale sarà che versione di Gareth Bale perché è quello del golf esatto perché il Gareth Bale al cento per cento è un giocatore ma quando fisicamente non sta al top e poi l'età che inizia comunque a diventare importante anche per lui lo limitano è un giocatore diverso però tutte e tre queste squadre secondo me hanno una cosa in comune che sono squadre difficili da affrontare ostiche cioè l'Italia non troverà avversari facili come spesso capita nell'europeo secondo me nel mondiale a volte per esempio è più facile trovare degli avversari più alla portata o più morbidi nell'europeo invece è più facile incontrare avversari organizzati meglio sono tutte e tre squadre organizzate squadre che faranno sudare gli azzurri l'Italia sulla carta è la più forte e deve vincere il girone però vediamo l'importante per il momento è passare il girone poi vediamo Doruk allora io non aspetto qualche sorpresa secondo me l'Italia e Turchia saranno usciti dal gruppo diciamo però Galler mi fa più paura perché come ha detto Ilario Gert Bale è un po' pericoloso per tutti per tutte le squadre e poi Turchia tipo può vincere Francia e poi va ad Islanda e perde quindi non lo so cosa fa con Galler con Svizzera prima si deve vedere come gioca con l'Italia perché ci darà alcune informazioni però secondo me l'Italia e Turchia senza dubbi usciranno da questo gruppo usciranno vincenti speriamo 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 domanda 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 secondo voi qual è la nazionale favorita per vincere questi europei Spagna buttata così allora io prima che rispondiate voi vi dico togliete la Francia perché se no è troppo facile non potete dire la Francia ditene ditene un'altra ok ora dite togliamola la Francia vedo sta la Francia vai 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 tu nei rompi pronostici che abbiamo fatto inizio anno io lo so io dico l'Italia ah gesti ovunque in Italia in Europa e nel mondo speriamo speriamo lo so che Doruk è nostro ospite e vuole farci un grande piacere però vi voglio dire così anche per gettare un po' di polemica in mezzo a questa bella conversazione sui rompi pronostici che abbiamo fatto qualche giorno fa ho messo come sorpresa dell'europeo la Danimarca perché secondo me è una squadra giovane è una squadra talentuosa che ha giocatori con grande esperienza internazionale come Kier Eriksen in uno stato di grazia quest'anno e Bright White e secondo me può arrivare lontano quindi io adesso però sorpresa è una cosa io sulla sorpresa sono d'accordo con te che a me piace molto ebbè però io per esempio ti potrei dire la Germania Germania che è sempre la Germania che è sempre una di quelle che arriva in fondo in fondo ci può stare però la Danimarca come sorpresa mi piace parecchio una grande incognita è anche l'Olanda di De Boer che ha fatto tanto discutere in Olanda perché ha cambiato lo storico 4-3-3 dell'Olanda e l'ha trasformato in un 3-3-2 la tradizione di Michel come hanno usato in un 5-3-2 in un 5-3-2 i fratelli De Boer diventeranno peggio dei fratelli Gallagher ha detto ha detto il fratello di Frank si sta rivoltando nella tomba e vabbè ragazzi però oggettivamente per l'Olanda è una metamorfosi incredibile cioè l'oro il calcio totale il calcio olandese e poi una metamorfosi che hanno portato in Spagna perché poi da lì hanno grazie dall'Ungheria all'Olanda scendiamo andiamo Francia Pirenei Barcellona il Tikitaka Guardiola cioè il calcio olandese l'Olanda degli anni 70 ha cambiato ha cambiato il calcio come poche altre una nazionale che non ha vinto niente ricordiamolo però è vero che fai ridi su uno dei drammi sportivi però è una nazionale che è rimasta nella storia forse anche per questo non vincendo non vincendo niente ha cambiato comunque il modo di vedere il calcio il modo di fare calcio e dopo senza quell'Olanda non avremmo avuto il Barcellona di Guardiola qual'era? Olanda Germania per caso quel gol di Gruif a sud Olanda Germania sempre sempre i tedeschi in mezzo ci sono quella è una fotografia forse della storia della nazionale perché poi alla fine l'Olanda allenatore uno dei pochi che è riuscito a fare la storia in campo e fuori e quindi per gli olandesi passare a un sistema difensivista un 3-5-2 alla Conte negli ultimi europei è un sagri reggio voglio spezzare una lancia in favore del povero De Boer perché sarà anche contro la storia antitradizionale quello che volete ma Wutvehorst come prima punta che è la prima punta per eccellenza e Memphis Depay che è la seconda punta per eccellenza a livello di caratteristiche secondo me sono una coppia d'attacco che possono fare tanti gol per quanto abbiano una nazione contro perché tutti vogliono vedere il 4-3-3 comunque posso dire una cosa che non c'entra nulla un complimento a Luca per le pronunce cioè veramente ragazzi ma Luca ci vuole umiliare ci vuole umiliare con la sua con la sua con la sua pronuncia io infatti taccio tu hai voluto anche tu però Anna Maria hai voluto hai voluto sottolineare hai voluto sottolineare la nostra inferiorità ci stiamo umiliando di fronte alla pronuncia di Luca dove oggettivamente io già prima me ne sono accorto quando si parlava della Turchia e ho taciuto e ho taciuto ho fatto finta e ho fatto l'ognor e ho detto vabbè non dico niente dovete sapere che io io e Doruk abbiamo collaborato perché facevo una rubrica con suo padre per il calcio italiano e ci tenevo sì vero vero a tutta la pronuncia corretta dei giocatori della Turchia anche perché se no parlando di tutti i turchi nessuno mi avrebbe capito no vabbè ma soprattutto non sarebbero stati contentissimi di sentire i loro nomi storpiati poi ci sono nazioni che storicamente storpiano i nomi a prescindere i cugini francesi che noi salviamo ma vabbè loro per principio loro anche per principio secondo me non capiscono a volte quando un italiano cerca di spiegare però vabbè è una loro paradistica no ma i nomi i nomi italiani a prescindere cambiano noi almeno ci proviamo cioè nel senso noi sappiamo di sbagliare quando sbagliamo invece gli amatissimi cugini francesi ai quali auguriamo tutto il bene per questo europeo lo fanno apposta Berratti Berratti e Monica Bellucci prima abbiamo parlato abbiamo parlato un po' di sorprese no? io ho detto la Danimarca qualche altra sorpresa ci potrebbe essere vorrei chiedere a Ilario e Anna Maria quale secondo voi può essere il giocatore sorpresa per l'Italia mentre a Doruk chi è il giocatore di cui si parla poco nella Turchia che può sorprendere tutti all'europeo Anna Maria io per prima questa è una bella domanda anche perché già abbiamo parlato di come Mancini si sia poi alla fine appoggiato a uno zoccolo duro che comunque già conosciamo bene dal punto di vista dei giocatori per riallacciarmi un po' e per credenza quello che ho detto prima magari potrebbe essere l'europeo di Castrovilli che per una combinazione si trova poi insomma protagonista e magari potrebbe far veramente bene no? Quindi magari ti dico lui Sogno Raspadori mi piace troppo il ragazzo mi piace mi piace come giocatore mi piace come persona le dichiarazioni fuori dal campo sono di un ragazzo con la testa sulle spalle di un bravo ragazzo è un giocatore moderno è una prima punta in calcio una volta si sarebbe detto atipica sarebbe una bella bella storia da raccontare mi piacerebbe vedere un Raspadori protagonista e quindi Raspadori Doruk Allora secondo me farà grande sorpresa è assolutamente Kokciu quello centrocampista che gioca in Olanda mi avevi scritto anche detto Doruk ho visto Kokciu che è bravo forte sì è forte nessuno parla di lui però assolutamente giocherà forte nella rotazione si dice sì quindi io aspetto una sorpresa da Kokciu insomma un nome che no non penso conosciate quindi sorpresa al cento per cento me lo segno se mi dici come si scrive me lo segno ah ecco ok hai visto vedi vedi manca manca qualche di eresi su rompipallone.it che probabilmente Alessio Dionisi approderà al sascuolo quindi era un'ultima notizia che ho visto proprio sul sito di rompipallone la stavo leggendo e quindi l'ho detta così anche se non c'entra quella nazionale però vabbè però Dionisi sempre bel calcio calcio propositivo l'erede perfetto l'erede perfetto di De Zerbi Raspaduri con Dionisi è quello l'ho detto subito 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 ho beccato l'aggancio altro allenatore da seguire ragazzi allenatore interessante che adesso arriverà in Serie A Paolo Zanetti del Venezia grande allenatore giovanissimo da vedere da seguire c'è qualcosa si muove eppur si muove no qualcosa nel calcio italiano sta sta cambiando sì c'è stato un bel balzer di allenatori in questa settimana sì ho girato anche la domanda che abbiamo fatto prima ai nostri ascoltatori così se hanno qualche nome che non conosciamo qualche giocatore un po' sconosciuto magari chissà Kokciu segna proprio contro l'Italia speriamo di no Kokciu zero immobile o chiesa secondo voi chi può far meglio in questi europei ma non lo so secondo me chiesa dobbiamo capire se sarà il titolare perché questa poi non è una cosa scontata potrebbe giocare Berardi è la prima credo che la prima la giocherà Berardi a Mancini piace poi serve Berardi forse segna un po' più di chiesa e quindi anche anche per questo gli viene gli viene preferito sono due giocatori diversi anche in età diversa immobile è alla sua ultima chiamata almeno per l'europeo poi vediamo per il mondiale che succede però questa può essere veramente una delle ultime occasioni per fare bene con la nazionale quindi mi auguro possa far bene immobile per il giocatore no? perché è veramente all'ultima chiamata perché se lo merita poi perché se lo merita avviene da tanti anni dove comunque è un giocatore anche in parte sottovalutato però dico immobile ma forse anche io sai anche perché appunto il ragionamento che facevi tu è giustissimo e poi soprattutto sono ruoli diversi dove comunque Ciro è più finalizzatore quindi magari il suo contributo potrebbe essere più determinante questo sicuramente quindi dico Ciro Doruk chi ti fa più paura immobile o chiesa? secondo me chiesa anche io sono d'accordo io vi dico dovete cominciare con chiesa e andare nella nostra parte sinistra sì allora la tattica secondo me dovrebbe essere andare dalla parte sinistra di Turchia e così immobile così esatto Doruk posso farti voglio fare una domanda a Doruk che sensazione cioè tu sei molto ne abbiamo parlato pure prima sei legato sei legato all'Italia che sensazioni provi tu esordio Euro 2020 Turchia Italia tu da turco che studia in Italia ha studiato italiano ha amici sia in Turchia che in Italia che sensazioni stai provando voglio il risultato pari pari così riusciamo come amici uno uno due due e poi ci incontriamo al finale magari 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 Demo Cristiano esatto risposta abbastanza sì però sono contento però devo dire che sono sono molto contento per voi perché secondo me avete trovato anche voi una generazione giusta con un allenatore che fa paura alla fine quindi spero che sia bene anche per l'Italia questo europeo grazie speriamo è quello che tutti un po' speriamo l'Italia in nazionale è anche uno dei temi di cui l'Italia in finale è uno dei temi di cui secondo me tutti parlano perché ci credono tanti giocatori con l'Italia di Conte è arrivato un risultato forse un po' a sorpresa perché nessuno se lo aspettava c'era poca qualità c'era pochissima qualità anche anche per volontà dell'allenatore però ricordiamolo perché Conte proprio su Giaccherini non so se ricordate lasciò in signa in panchina che era comunque giovane però se parliamo di qualità Giaccherini è un giocatore che però era il suo soldato l'aveva avuto alla Juventus correva per 90 minuti quella era la nazionale di di Zazza di Pellè è una nazionale i loro rigori ce li dicono ricordiamo li ricordiamo benissimo di Eder cioè era una nazionale però legata a un filo strettissimo con l'allenatore poca qualità tanta 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 quantità qua forse c'è meno corsa meno quantità l'unico che mi viene in mente se penso alla corsa è naturalmente Nicolo Barella assolutamente però tanta qualità eh Verratti Locatelli Insigne Giorginio eh anche in difesa Bonucci che già c'era però Bonucci comunque tanta qualità in difesa e sulle fasce Emerson Palmieri Spinazzola Florenzi che quest'anno ha dimostrato a Paris Saint Germain è una squadra anche di qualità Anna Maria faccio rispondere a te a questa bella domanda su Lorenzo Insigne pensi che possa essere finalmente il suo momento io penso di sì anche perché l'ho già dimostrato in campionato nonostante la qualificazione in Champions del Napoli eh diciamo che lui era una delle note positive costanti della squadra è stato capitano e secondo me date alla mano statistiche alla mano ha dimostrato di essere maturato molto perché negli anni tutti quanti si aspettavano questo suo sorto di qualità e credo che quest'anno lui l'abbia compiuto e penso che possa fare lo stesso anche in Nazionale sì è vero io lo metto nei miei tranquilli top 3 MVP della serie di quest'anno ragazzi è il numero 10 sulle spalle quest'anno Insigne come immobile è all'ultima chiamata stesso a stessa età Insigne stesso destino si rincontrano più o meno comunque hanno cominciato sono all'ultima chiamata adesso o mai più Insigne lo sa Immobile lo sa Verratti lo sa parlando un po' di Pescara anche se Verratti anche per il ruolo magari potrà avere la carriera un po' più lunga se infortuni permettendo però Insigne forse alla penultima perché comunque per il mondiale ci sarà però Insigne deve dimostrare si è preso il Napoli quest'anno deve prendersi nazionale assolutamente Allora visto che sono le 19.53 e noi ci siamo avvicinati come Italia come nazione al calcio ci avviciniamo come Italia come nazione anche un'altra cosa che sappiamo fare benissimo cioè mangiare e quindi vi lascio andare io ringrazio ringrazio Ilaria Fovino per essere stato con noi Anna Maria Baccaro e Doruk Ugan e vi salutiamo e soprattutto Forza Italia a questo punto Forza Italia Forza Azzurri dai grazie mille dai forza a tutti